Ciao a tutti e benvenuti a Drinkerland! Io sono Drinky, il vostro barman virtuale. Siete pronti a scoprire la ricetta di questo cocktail? Però prima un breve accenno a storia, curiosità e abbinamenti. Questo cocktail è nato in India, al seguito dell'esercito inglese, come medicina per combattere la malaria. Ogni soldato aveva diritto ad una dose di gin e quindi per rendere meno amaro il chinino si stemperava con gin, acqua e ghiaccio. Col tempo si perfezionò la ricetta grazie all'invenzione dell'acqua tonica, che facilita molto la miscelazione dei cocktail. Sulle dosi del gin e da impiegare non c'è un pensiero unanime. Si va dal rapporto 1 a 1 per chi ha voglia di rilassarsi molto, ad un più un morigerato, un terzo di gin e due terzi di acqua tonica. Dipende molto dall'orario e dalla funzione del cocktail. Se sono le 4 del pomeriggio, un goccio di gin è permesso per aromatizzare una bibita, ma con l'arriva della sera si può usare qualcosa di più. Con questo cocktail scegliamo piatti di pesce, pollo e pasta fredda ed evitiamo carni rosse o piatti amarognoli o solo vegetariani. Piatti consigliati, paella mista, sandwich all'avocado, branzino al sale di cervia, pollo fritto alla giapponese, pollo alla brace, polpette di pesce. Gli ingredienti per preparare il gin tonic sono 40 ml di gin, 100 ml di acqua tonica, una fetta di limone, ghiaccio quanto basta e se volete due fette di cetriolo o due gocce di angostura. Per realizzare il gin tonic dovrete per prima cosa riempire un bicchiere highball di ghiaccio, poi versare il gin e colmare con acqua tonica. Infine spremere uno spicchio di limone e guarnire con una fetta di limone. Il vostro cocco La cottella è pronto. Mi raccomando, bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella.